questa è volos e a volos ci sono ancora queste casette con i limoni e ci sono ancora si riesce ancora ad arrivare a vedere queste cose ora non li voglio disturbare ma io non ho parole non ho parole ciao se si spaventano ciao cicina questo adesso cade no e questa casa è una meraviglia con quest'albero di limoni ciccia non so neanche se avvicinarmi o no ma sta accadendo no ciao ma no sono tutti attaccati al seno uno la testa in giù adesso si sta ce n'è un altro sotto sdrai no non ci posso credere quanti bambini no quanti sono ce n'è anche uno bianco cosa c'è madonna ma che bella che sei non vengo lì ciccia no eh non mi posso avvicinare ciao no la sto disturbando c'è guardate che spettacolo non mi avvicino di più perché li disturberei si è svegliato quello che stava sdraiato sotto e il bianco e nero è fantastico e questo è un pezzo di madonna che bella si è un pezzo di Grazie a tutti! Un scorcio di vita di Volos. Buona giornata. Naste cala.